Siamo al termine di Ipensolera-Monda-Montecchio-Eurospin-Forzara-Pinerolo, vince Pinerolo 3-0, sentiamo il commento a caldo di Matilde Frigerio. Sapevamo che ci aspettava una partita tosta, avevamo dall'altra parte una squadra molto forte che appunto è ai vertici della classifica e sono forti sotto tutti i punti di vista, sotto tutti i ruoli, a noi ci è mancato qualcosa in più ma nonostante ciò ci abbiamo provato, siamo un bel gruppo, siamo una squadra unita ma questa volta non ce l'abbiamo fatta. Sicuramente Pinerolo aveva voglia di agganciare questa sera CDA Talmassona in prima posizione pur con una partita in meno da giocare approfittando del passo falso ieri di Talmassona contro il Camp Italia, quanto contano queste motivazioni per loro rispetto magari a voi che avevate raggiunto l'obiettivo matematico salvezza e playoff la settimana scorsa? Sì sicuramente loro magari erano più agguerrite perché si possono contendere il primo posto contro Talmassona, noi siamo state contente che siamo automaticamente passate ai playoff però questa non è una giustifica, dovevamo comunque dare il massimo perché sapevamo che era una squadra forte, ci abbiamo provato ma è andata così. Complimenti lo stesso, ci rivediamo qui adesso dopo la trasferta di Talmassona contro il Club Italia per recuperare magari la sconfitta dell'andata. Speriamo, comunque il Club Italia sta facendo molto bene però noi siamo un bel gruppo, siamo forti e ce la possiamo fare. Bene, grazie ancora. Grazie.